Bandiere nere issate a Loano negli stabilimenti balneari, per dire no alla direttiva Bolkestein. Oggi 4 luglio, l'indipendenza americana ma anche la nascita di Giuseppe Garibaldi, di mamma loanese, un uomo che ha portato la libertà in giro per il mondo, l'eroe dei due mondi. E noi vogliamo dichiarare oggi la voglia di libertà, la voglia di libertà di fare impresa in questo paese. Io sono contento che sia la mia città, Loano, quella da cui parte, questa che è una manifestazione di livello regionale, perché noi siamo su una passeggiata le cui fondamenta sono state pagate dai balneari e il sopra della passeggiata è di pubblica effluizione, è di tutti, è della città. I balneari hanno fatto investimenti con mutui per 20-30 anni e oggi fra due anni gli diciamo di uscire, di lasciarci la passeggiata che hanno pagato perché buona parte di questi investimenti sono fatti da loro senza che l'Europa ci riconosca la peculiarità di quello che è avvenuto in questo paese. Che investimenti hanno fatto quelli dei mercatini di Natale tedeschi o quelli dei campi di tulipani olandesi? Qua ci troviamo davanti veramente a un mondo di imprenditori che per 100 anni ha insegnato a fare turismo e che nessuno sta tutelando. Badate, non è l'Europa il problema, il problema è il nostro governo, è il governo italiano che non va a difendere le ragioni di questa gente a Bruxelles. Oggi noi quello che chiediamo al governo è cosa avete fatto, cosa vi hanno detto, cosa avete nel cuore di fare. Noi lo vogliamo sapere non solo per fare un'azione forte nei confronti di questo governo, ma per chiedere un impegno pubblico ai partiti, quelli che fra poco chiederanno il voto alla gente e i 30.000 balneari, i 30.000 aziende e il circa mal contato un milione di persone che mette qualcosa nel piatto perché fa questo lavoro, credono abbia il diritto di sapere se qua si vuole fare un gioco a tutela della libera impresa o a tutela del grande capitale. Se noi vogliamo mettere il nostro e concessioni dei maniali a disposizione dei grandi gruppi, se vogliamo chiudere le sartorie e aprire la grande distribuzione, se vogliamo chiudere le trattorie e aprire i fast food, perché questo avremo. Avremo un'offerta uguale dappertutto con il rischio di avere qualche imprenditore che non ha nemmeno bisogno di guadagnarci, perché magari al posto di un imprenditore è solo un grande prenditore che ha bisogno di lavare un po' di denaro con un investimento pubblico. Sarebbe un disastro e se nessuno farà niente sarà un disastro. Stiamo lavorando a tutti i livelli istituzionali affinché si possa trovare nel breve tempo possibile una soluzione. Il 26 giugno abbiamo avuto il coordinamento congiunto del demanio e del turismo a livello nazionale, dove alla presenza anche di UPI e di ANCI abbiamo chiesto con forza un incontro con il ministro Gnudi e il ministro Moavero per avere contezza del nuovo provvedimento che sta predisponendo il governo in questa materia. Noi vorremmo che prima che venisse annunciato e emesso questo provvedimento fossero coinvolte le regioni, le province e i comuni. Anche perché a seguito dell'incontro che abbiamo avuto a Bruxelles, dove i funzionari della Commissione europea hanno tracciato una linea sulla quale poter innescare un ragionamento sulla Bolkestein, sarebbe appunto opportuno un confronto, considerato che si può ragionare anche su una norma di natura transitoria che possa accompagnare questa applicazione della direttiva Bolkestein. In ogni caso, noi in assenza, nel silenzio del governo, continuiamo a essere vicino alle imprese balneari, alle associazioni, ai sindacati, perché riteniamo che questa sia una battaglia che deve essere perseguita con impegno e a tutti i livelli. Anche perché noi, abbiamo ribadito anche a Bruxelles, riteniamo che queste concessioni dei maniali non siano concessioni di servizi, ma concessioni di beni. Cioè, coloro che hanno in concessione una spiaggia hanno in concessione un bene e non un servizio. Il servizio lo espletano successivamente. Per cui, anche se questa tipologia di concessione non viene riconosciuta a livello europeo, noi andremo avanti in questa battaglia, affinché veramente non si abbia un tracollo di questo settore, perché sarebbe veramente un grave danno non solo per il turismo ligure, ma per tutta la nostra regione.